Riguardo alle strumentalizzazioni che qualcuno in sede di Replica, ancora una volta, vorrà fare in merito alle ormai note scarcerazioni, tema che però è fuori dall'oggetto dell'informativa di oggi, ricordo che sono state determinate da decisioni prese in piena autonomia e indipendenza dai magistrati competenti, nella maggior parte dei casi per motivi di salute, sui quali ovviamente non c'è stato alcun condizionamento da parte del Ministero o del Governo. Come è noto, i due decreti legge approvati nel giro di una settimana rappresentano la migliore risposta dello Stato per garantire una stretta sulle richieste di scarcerazione e contemporaneamente riportare i detenuti davanti al giudice affinché, visto che il quadro sanitario è cambiato, vengano rivalutate tutte le questioni di salute. Adesso è necessario rassicurare tutti i cittadini che credono nella lotta alla mafia perché sappiano che il fronte antimafia rimane compatto. Grazie.